Valle degli italiani contro gli OGM, sentiamo Zaia. Noi rispettiamo il lavoro del Consiglio di Stato, ma non ci assoggettiamo, nel senso che ricorreremo in tutte le sedi e faremo opposizione, anche perché siamo convinti di rappresentare fino in fondo con il contratto sociale i cittadini e tre cittadini su quattro in Italia non vogliono gli OGM. Tre cittadini su quattro ha sentito dalla libera, non vogliono gli OGM, Zaia è arrabbiato, dice questa sentenza, noi ci opporremmo.